Buonasera a tutti e benvenuti a questa manifestazione che abbiamo pensato, l'avevamo già fatta qualche tempo fa e l'abbiamo riproposta proprio perché vogliamo fare in modo di far conoscere tutte le etnie presenti sul nostro territorio e l'integrazione è stata proprio in questo, in senso che cerchiamo, ovviamente abbiamo inserito anche l'Italia proprio per questo motivo perché è il paese dove siete e quindi cercheremo in questi giorni, anzi vi invito chi ha delle musiche tipiche e locali, poi abbiamo trovato anche un uomo che cucina, sembra che è proprio del Mali se non mi sbaglio e vogliamo che una sera, tipo venerdì sera, possa cucinare per noi e quindi io vi faccio un grosso in bocca a loro, vi dico innanzitutto che non si vince niente, vinciamo tutti, quindi mi raccomando giochiamo e divertiamoci sul campo. L'abbiamo 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 Eri boy, kai te te keman, shiri koukou diopna l'asama, polizia dira yara, te yit dira mounil, lisou le canule, te fadane, son lukhelle, te koti, te yaramam, soukouti me saanaget, sisousous, sedessi, amin te gai, me houdna le diken, kouma fong, ton, 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 gama benni yo, ma wak, po se nyayi, Eri boy, koi, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.